Il manager non profit direi che è un professionista che deve essere anche piuttosto qualificato tra l'incudine e il martello, tra l'incudine di dover produrre dei risultati sociali importanti, significativi, che è l'unico senso della sua professione e del lavoro del non profit, del miglioramento sociale, reale, concreto, non soltanto a partire dalla buona causa, ma anche verificato poi concretamente, è il martello di far quadrare i conti, di gestire un'organizzazione, di gestire il personale, quindi è un lavoro molto più complesso del manager for profit che ha una semplificazione rispetto al lavoro, sicuramente si pone meno un problema di miglioramento del mondo, si pone un problema di far funzionare la propria azienda e il proprio staff nel modo migliore. Leader to Leader nasce all'interno di una riflessione europea con i colleghi del network di Euclid, che è il gruppo dei dirigenti non profit europei, proprio per cercare di massimizzare la connessione e il supporto dei manager non profit e dei leader nel non profit. Oggi da soli si fa molto poco, è vero che ognuno ha il suo capitale sociale, i suoi contatti, però una messa al sistema delle relazioni con la possibilità di avere uno scambio sistematico, di buone prassi, di informazioni strategiche, di contatti essenziali rispetto a tutti gli ambiti possibili e anche di supporto, nel senso che un problema che posso aver avuto io, un'altra persona, un altro professionista può averlo risolto. Quindi da la possibilità di stare insieme, portare avanti insieme un miglioramento complessivo della propria professione. Si entra per condividere un progetto, che è quello di stare insieme e crescere insieme. Opportunità di business, è chiaro che quando si sta in una rete, può essere Confindustria o può essere qualsiasi tipo di rete, le opportunità vengono, possono essere opportunità di progetto, possono essere opportunità di avere informazioni sensibili rispetto per esempio a finanziamenti o a persone che hanno referenza su quei finanziamenti, però al di là del business è importante che ci sia la possibilità di scambiarsi, scambiarsi e crescere insieme per i manager che lavorano all'interno del network. Spesso vengono dal for profit a chiederci come facciamo a gestire la motivazione per esempio. Io penso che ciascun settore abbia da insegnare qualcosa all'altro, sicuramente noi abbiamo da imparare dal for profit una maggiore attenzione al risultato, una maggiore concretezza, questo è importante e i manager non profit che vengono dal for profit spesso hanno una marcia in più. Quello che noi abbiamo di più forse è la capacità di sognare, cioè la capacità di immaginare un qualcosa che non è soltanto per noi o per la nostra organizzazione, ma è anche per il cambiamento globale. E' vero che un'azienda for profit oggi se non ha una visione del futuro e anche in termini di responsabilità sociale e ambientale, sia interna che esterna, difficilmente va avanti molto bene, quindi le competenze che il manager non profit ha oggi sicuramente possono essere utili. In molti paesi europei, per esempio anche negli Stati Uniti, si usano gli stagi di azione sociale, cioè il manager for profit va a fare un periodo, anche breve, di collaborazione in una non profit, organizzazione non governativa o altro e acquisisce anche un po' la mappa cognitiva, i valori e sono cose che funzionano molto, ritornano con una sensibilità maggiore. La sensibilità, la capacità di ascolto, la capacità di rapportarsi oggi è essenziale in tutti i settori. C'è moltissimo da fare, molto è ancora fumo, molto è marketing, diversa è la responsabilità sociale come azione di marketing, diversa è la responsabilità sociale come fondamento nella corporate governance. Laddove si comincia a capire che il consumatore è uno stakeholder chiave, ha una sua politica, ha una sua idea rispetto a come il prodotto deve essere fatto e come l'azienda si deve muovere, averlo dentro nei processi decisionali, nello stakeholder relationship, nella creazione di un bilancio sociale diventa importante, però c'è ancora moltissimo da fare su questo versante. Anche nel nostro comitato promotore le donne sono circa il 30%, i problemi si sanno, sono quelli di un sovraccarico familiare e lavorativo, che riguarda ovviamente anche il non profit. Il problema non è stato posto, quindi la prima cosa è porlo seriamente all'interno delle organizzazioni, pochissime sono le organizzazioni che se lo sono poste e ci hanno lavorato seriamente. Quindi posto il problema si tratta di vedere cosa si fa in Europa e andare a vedere quali sono le buone prassi, dopodiché, e questo si fa all'interno del network europeo, in collaborazione con i colleghi europei, sicuramente si fa e si fa bene, la cosa importante è trovare quelle cose che sono adattabili in Italia, quindi questa è una cosa che faremo insieme con la membership di Leader to Leader, però per noi è una pista di lavoro fondamentale. Che ci sono stati sicuramente degli illeciti, in particolare nell'ambito della cooperazione internazionale, che questa cosa è gravissima perché se fatta da altri è grave, se fatta da noi è ancora più grave, e quindi non è assolutamente scusabile. Network come questi hanno anche l'obiettivo di fissare degli standard, di creare anche maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica rispetto a quelli che sono le buone prassi di lavoro, però questi problemi ci sono stati in tutti i settori, anche nella Chiesa, per cui il fatto che ci siano stati anche da noi, è vero anche però che noi ci troviamo esposti su un fronte, cioè c'è gente che rischia la vita, noi nel comitato promotore abbiamo Dunia e Taib, rappresentante delle donne arabe d'Italia, che sotto scorta rischia con l'estremismo islamico, ci sono persone nel non profit come Don Ciotti che rischiano la vita, quindi è vero che ci sono degli illeciti, però è vero anche che stiamo dando, stiamo dando moltissimo.